Storia del Maga in 30 opere Atanasio Soldati Ambiguità 1951 Olio su tela Ambiguità è un'opera molto significativa della produzione degli anni 50 di Soldati e anche una delle prime opere astratte a vincere un premio nell'Italia del dopoguerra il premio Gallarate che da subito si connotò per il coraggio sperimentale ed è anche la sintesi perfetta della ricerca di soldati un perfetto incastro di forme un'estrema accuratezza nei contrasti qualitativi e quantitativi dei colori nella loro complementarietà e nei rapporti tra le linee e le superfici La composizione si struttura attorno ad un asse diagonale che ripartisce la tela in due indifferente ad ogni simmetria Ambiguità è un riferimento imprescindibile per il movimento arte concreta Il movimento per l'arte concreta è un movimento fondato a Milano nel 1948 da Atanasio Soldati, Bruno Munari, Gillo Dorfless e Gianni Monnet Il fine era la promozione dell'arte geometrica libera da ogni riferimento al mondo esterno Il MAC si rifaceva al concetto elaborato da Max Bill nel 1936 secondo cui l'arte concreta pur essendo aniconica priva cioè di immagini come l'arte astratta attinge a forme pure, primordiali a linee e colori elaborati dall'immaginazione totalmente slegata da processi di astrazione delle immagini della natura L'archivio storico del movimento è conservato al MAGA L'archivio storico del movimento è conservato al MAGA attenzione della rappresentanza L'archivio storica del movimento èadiumidać sono un' player controllo dell'archivio visione allora miрач ti senti conti e me parla